Secondo me sta una partita molto difficile perché loro vogliono salvarsi, vogliono giocare bene, però anche noi vogliamo quello quattro posto. Sì, sappiamo che giochiamo contro Busto, ancora una squadra molto brava, con giocatrici molto bravi e io spero che contro loro perché abbiamo perso due partite in regular season e io spero che adesso possiamo fare un po' di più cose sulla nostra parte del campo, nel playoff scudetto.